Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Ricordatelo sempre, Peter. Ricordatelo sempre. Sbrigati! Uomo mascherato, sveglia la briga! Non è un uomo, mio fratello l'ha visto farsi un nido nella fontana dell'inconsentro. Credo che sia umano, secondo me è un uomo, o magari una donna. Bobby, dà un'occhiata lassù! Non c'è le mani in alto, escono delle corde e ci si arrampica come su una ragnatela. Vedo la ragnatela che è la sua firma. Spider-Man è stato qui! Quello ci protegge. Protegge la gente. È un fenomeno da baraccone. È un mattacchiote. È un fetente. E io non mi fido. Non ti vuole. Con gli omaggi del vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Uno con otto mani. E c'è tanto. Ho un collano aderente che gli fa un pal... Si veste da ragno, non farti fregare. E uno dei nostri lo deve abbracciare. In guardia, woo! Pari da Spider-Man. Chi è Spider-Man? È un criminale. Ecco chi è. Un mercenario. Un pericolo pubblico. Che cosa ci fa sulla mia prima pagina? Mr. Jemson, sono moglie sulla uno. Ha bisogno di... Mr. Jemson, c'è un problema per la pagina 6. È prima pagina, il problema. Sta zitto. Sì, signore. Beh? Fa notizia. Sono clienti importanti, non possono aspettare. Beh, impareranno. Ha salvato sei persone da quel vagone della metro. Sì, e magari ha provocato l'incidente. Succede qualcosa e il viscido verme è sempre presente. Guarda qui, scappa dal luogo dell'incidente. Questo che ti dice? Non sta scappando, sta probabilmente andando a salvare qualcun altro. È un eroe. E perché porta una maschera? Cos'ha da nascondere? La signora chiede se lei vuole cinzo ciniglia per la sala da pranzo. Quello che costa meno. Mr. Jemson, stia a sentire. Abbiamo venduto la pagina 6 a due clienti. E ora tanto messi, che Conways hanno tre quarti della stessa pagina. Abbiamo esaurito quattro ristampe. Esaurito? Tutte le copie. Domattina Spider-Man, pagina 1. Con una foto decente. Passa Conways a pagina 7. Escluso pagina 7. Mettilo a pagina 8. Sconto 10%. Anzi 5%. Non si può fare. Fuori! Il problema è che non ce l'abbiamo una foto decente. Eddie ci sta provando da settimane. Si riesce appena a intravederlo. Oh, è pure timido. Riusciamo ad avere una foto di Julia Roberts in tanga e non rimediamo una foto di questo essere? Metti un annuncio in prima pagina. Premio in denaro per una foto di Spider-Man. Non vuole essere famoso? Ma io lo faccio diventare famigerato! Ciao! No, un altro. MJ, sono io, Peter. Ciao! Ciao! Ma tu che cosa ci fai qui? Io sto vendicando un lavoro e tu invece. Sto andando a un'audizione. Un'audizione? Allora reciti adesso. Già, lavoro regolarmente. Veramente ho finito ora una cosa. Favoloso Mary Jane. Ce l'hai fatta. Ehi, Miss America! Hai realizzato il tuo sogno. Dal tuo cassetto mancano 6 dollari. La prossima volta che succede te li trattengo dalla paga. Mi scusi, mi sforzo. Sto parlando con lei, eh? Sì, Enrique, ci sento. Ho capito. Beh, è meglio che non succeda più, chiaro? E non guardarmi più così.